Sinceramente la morte del Vescovo Giovannetti mi ha proprio rattristata perché è stata una persona nella vita della nostra comunità molto presente con la sua discrezione, con la sua paternità, era veramente come un amico e anch'io durante il mio lungo priorato durante il quale poi abbiamo anche edificato questo monastero, quando io a lui ho chiesto cosa ne pensa eccellenza, lui subito si è dimostrato contento, ci ha aiutato, ha detto perché non uscite non solo dalla diocese di Fiesole ma anche di Prato Vecchio, ormai siete conosciute come il Domenicano e Prato Vecchio, quindi poi madre va davanti, va davanti, va davanti e la sua presenza, ripeto, discreta ma che c'era, è sempre stato per me di molto conforto e anche per la comunità e ogni volta che chiedevo cosa ne pensavo di una cosa lui mi diceva se la comunità è contenta io sono contento, adesso questa veramente larghezza di vedute, di apertura, per noi è stato veramente un Vescovo eccezionale che ci ha amato e che abbiamo amato e adesso preghiamo perché veramente il Signore lì ha il premio che dà ai suoi serbi fedeli